e buongiorno ragazzi eccoci ancora una volta sul canale tecno alex 73 per un'altra partita del nostro pers club manager allora ci aspettava la terza giornata a pisa contro il pisa benissimo benissimo allora tanto vediamo un attimo la squadra avevamo già salvata dovremo essere pronti andiamo subito subito a giocarcela vediamo vediamo cosa succede 5 21 6 91 dovremmo essere abbastanza in vantaggio direi no questi sono i nostri cambi poi vediamo cosa dice pardo oggi sentiamo buonasera e benvenuti all'incontro di oggi che condizioni abbiamo stasera schermo la palla che rimbalza lì nell'area scherotto lasciala lasciala dai ragazzi castagne perfetto vedi eccolo grande di bala fatti venire l'ispirazione palla in mezzo a 2 grande scheretti 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 chi era chi era chi era chi l'ha fatto scheretti grande scheretti anche ancora di bala gliela mette lì e poi lui fa tocco e tac con la punta quasi la butta sull'angolo lungo perfetto siamo in vantaggio a pisa tifosi scatenato 1 a 0 tutto ora avranno sicuramente meno pressione addosso ma devono continuare a lottare ci ha provato ci ha provato vabbè calma ragioniamo scheretti è stanco eh scheretti di bala in venta grande tacco per un pelo per un pelo no look di tac con tanta roba metti giù giochiamo semplice Sanchez Sanchez scheretti Sanchez Sanchez 2 a 0 perfetto ragazzi perfetto una macchina da guerra sta squadra è anche scivolato guarda la messa dall'altra parte va bene va bene va bene va bene 2 a 0 andiamo ragazzi siamo quasi alla fine del primo tempo direi che dovrebbe essere chiusa primo tempo è andato molto bene direi che facciamo un paio di cambi allora io metterei vediamo non sto più non è stanco falco tre quarti sta lì Sanchez di bala li terrei però li terrei un terzino destro ce l'abbiamo un po' più scarso però intanto lo facciamo provare e poi 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 pensate centrali no stanno bene proviamo così dai con questi due cambietti con questi due cambietti un gol ha deviato ok 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 non siamo molto precisi sui cross grande di Bargone si è liberato si è girato su se stesso guarda lì, si gira quei due lì davanti fa la differenza c'è la difesa regge, quei due lì davanti non ce n'è per nessuno piace il Falco lì in mezzo al campo ancora prova, lavo, cambia gioco bene bene, teniamo la palla di Bala e Bala ci ha messo per Sanchez ancora gol di Sanchez sono devastanti quei due lì davanti di chi rimarca allora, salta l'uomo e con l'altro piede la butta dentro perfetto l'ha parchegliato prima sul pallonetto che aspetta senti eh, cerchiamo di non prendere gol manca poco non l'ho fatta passare potenti guarda che possesso a palla che abbiamo grande a cura grande che fenomeno il tiro di prima, così sotto la traversa non se lo aspettava nessuno 5 a 0 direi che possiamo chiudere non poteva più continuare così e lui è un dominio assoluto tre minuti più recupero ed eccoci qua finisce 5 a 0 non male finisce 5 a 0 non male classifica 9 punti virtu centella insiste insiste classifica gold di bala primo con 5 classifica assist di bala primo con 5 molto bene mi piace adesso ora abbiamo completato una delle missioni esordienti ok vediamo un attimo ah che attrazione guarda quanti c'è n'ha qua va bene va bene qua quella c'abbiamo più quello e mettiamo in tasca altri 10 perfetto ok 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 è un'informazione come sono messi sono giallini eh sono giallini gloria della squadra 59 va bene vediamo delle strutture la sede sociale vediamo delle strutture miglioramento questo al posto ok ok difenza delle altre strutture la sede del club verrà migliorato automaticamente secondo il livello del club ok strutture mediche quanto mi costa quindi 2 milioni e otto bene per ora allora agenzia osservatori 2 milioni e otto è una standard proprio bene andiamoci a qualcosa altro da costruire stazione bus richiedibile divisione 1 o meglio o superiore quindi questo non ci può fare hotel aeroporto ancora niente quindi bisogna ancora salire di livello ok perfetto vediamo un attimo se c'è qualcosa sugli allenamenti che ho primavera invece ci 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 ce ci ci no ci 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 no la prossima è la coppa no, sempre il campionato, andiamo al calendario, andiamo al calendario poi stacchiamo raga, allora la prossima abbiamo link B, poi rush country, rush country e di coppa, poi abbiamo Hamilton, ecco qua, all'ottava, c'è lo scontro girato col Virtus Entella, molto bene, va bene ragazzi, missioni esordienti, ok, siamo a posto, noi ci vediamo al prossimo match, la prossima giornata, mi raccomando pollicioni, iscrivetevi, condividete, ciao ragazzi e alla prossima